il 25 luglio che giorno è lunedì mi sembra si comincia a ridere alle 6 della mattina vero si ride si ride alle 9 si arriva qui e niente si ride alle ore 21 lunedì 25 luglio con il San Costanzo Show ma perché ce ne sei? è caso io te ci ha le terme di Patugnes alla sora rosa ma che è la sora? la rosa della cecca la rosa della cecca è qui insieme a Aurietta Pedotti il 25 è all'Arena BCC vi aspettiamo ma vai a far comprare il costume per niente perché ho comprato anche il tango ci andate dopo prendete il taxi a mezzanotte e andate a Paturnia vi aspettiamo il 25 lunedì risate a crepapelle